I più sorpresi sono i titolari del Bar Cronos. In questo locale, a pochi passi dal centro di Margherita di Savoia, nelle ultime settimane c'erano stati accenni di fortuna con due vincite discrete, di 10.000 euro la prima e 500 euro la seconda, attraverso i Gratta e Vinci. Ma quando nella mattinata di giovedì si sono visti recapitare, attraverso il servizio di poste private, il diploma con il quale si annunciava e certificava la vincita di 5 milioni di euro. Un po' di tremarella nelle gambe del signor Pietro Rizzi, titolare del bar di sua moglie e dei figli, c'è stata. Del resto non capita tutti i giorni di vincere una cifra così sostanziosa e per questo un po' di smarrimento iniziale, sarà vero o no si sono chiesti al Bar Cronos, c'è stato. La certezza che un fortunato giocatore transitato in questo bar si sia portato a casa 5 milioni di euro sta non solo nel diploma ricevuto dall'ottomatica ma anche dalle verifiche fatte dal signor Rizzi. Nella sede centrale di Roma, della società che gestisce i giochi, da almeno due settimane sapevano di una grossa vincita attraverso il Gratta e Vinci denominato Maxi Miliardario. Il biglietto costa 20 euro e la vincita massima è appunto di 5 milioni nella zona della provincia Bat, anche se non avevano ancora individuato il punto fortunato. I titolari del Bar Cronos però non riceveranno nessuna percentuale della vincita, i tempi sono cambiati e possono solo sperare che il fortunato possessore di quel tagliando si ricordi della sua giornata fortunata attraverso un regalo. Alla famiglia Rizzi però, sorpresa dalla tanta attenzione mediatica del momento, resta la soddisfazione di sapere che il loro è un bar baciato dalla dea bendata.